Tu sei un capitano fallito, sei talmente vecchio che non capisci l'arte moderna delle foto degli animali E non puoi competere con me, perché questa è una cosa vergognosa Cioè l'ho preso nel momento in cui si è lanciato dalla testa della giraffa Ed era ancora in volo e ti sembra che mi dai solo sei, cioè E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, che si chiama Snappy Mouse E siamo qui con il secondo video per il contest della nostra nuova possibile serie Vuoi spiegare tu per chi non lo sapesse? Certamente, spiego semplicemente Per chi non ha visto A-Day abbiamo deciso di fare un contest dove voi deciderete qual è la nostra prossima serie E in base a che cosa ci baseremo? In base alle visualizzazioni, ai likes, ai commenti e al sondaggio Quindi il gioco che vi piace di più votatelo, lasciate gli likes, commenti, tutto quello che volete Cercate di farlo vincere e appunto diventerà la nuova serie Abbiamo scelto un giochino per telefono proprio come A-Day Sono anche un po' simili, ma poi totalmente diversi verso un altro punto di vista Esatto, esatto Vuoi spiegare il gioco? Anche questo come A-Day diciamo che ha come tema gli animali Ok Però qua dovremmo girare nella foresta, in tutti gli ambienti, in tutti i posti Per fare delle foto, ebbene sì, agli animali Esatto E mettele nel nostro museo, che sarebbe questo ippopotamo carinissimo qua Ed esporle ai visitatori di tutto il mondo Che come vedete stanno già iniziando a visitare il nostro museo Esattamente, quindi noi andiamo semplicemente a fare delle foto agli animali La cosa più bella del mondo E li mettiamo nel nostro museo Che poi ho pure notato che se riesci a fare una foto ad un animale in una posa particolare Perché te le chiede proprio il gioco Ti dà più punti, quindi il tuo museo sale anche di prestigio È un sacco di roba, no 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 no, c'è proprio da essere bravi fotografi No, devi essere proprio perfetto, bravissimo, catturare il momento giusto Perché altrimenti non prendi troppi punti con la tua foto Di capire come mettermi Ok, infatti non capivo che stessi facendo Forse così è abbastanza fattibile Oltre ovviamente alle doti da fotografo dobbiamo anche gestire il posto Infatti noi ad esempio qua possiamo costruire un ponte per collegare una parte all'altra Basta fare tacchete, tacchete E non so E ci vogliono 5 minuti, giusto? Allora, praticamente questo serve ad aggiornare il museo A dovere più foto del capitano eccetera E renderlo molto più figo esteticamente Quindi noi lo mettiamo a lavorare E andiamo a farci una bella foto Una cosa particolare È che abbiamo soltanto un rullino molto limitato Per fare le fotografie Sono tipo 3 o 4 foto Non ricordo bene Ok, ok 3 o 4, 5, bravissima Ecco me, io sono entrata C'eri quasi Aspetta, mi piaceva tutto Ho iniziato a scattare Ho perso anche il conto delle foto All'inizio io ho scattato tutto quello che vedevo E quindi dobbiamo cercare di prendere gli animali Esatto Dobbiamo stare molto attenti, molto concentrati Come vedete E scegliere il tempismo, giusto? È una specie di tour Cioè non ti puoi fermare Quindi devi essere proprio velocissimo Trovare l'animale nella posizione perfetta E scattare la foto I valori che contano sono la grandezza La posa e l'angolo di inquadratura Quindi bisogna averlo che ti guardi in faccia Bisogna averlo alla grandezza giusta E bisogna averlo dalla giusta inquadratura Quindi bisogna stare molto attenti Da questa parte, infatti ricordo bene Ci sono i bambi Qua ci sono gli elefanti Ma io direi di prendere lui Guarda è uscita Bellino Oh che carina Questa foto forse adesso Così 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 è perfetto Ancora meglio Che bellino Altri due facciamo attenzione Ok ho altre due foto Allora non devo giocarle male Devo fare qualcosa di Bellino Magari un nuovo animale Vediamo se troviamo qualcosa Sì si possono trovare Io ci spero Io ci spero No si possono trovare dopo un po' Hai ragione Hai ragione Non è una festeria Guarda lì c'è un nido Però non c'è nessuno Ok no non c'è nulla Una scimmietta No dai ci sta svolgendo le spalle Non c'è altro Perché di solito io quando l'ho provato C'erano anche gli elefanti qua Alla fine Vabbè Ok aspetta E questo è per andarci Faccio la foto alla mongolfiera no? No non puoi Per simboleggiare Mi dispiace non puoi Vabbè ma li ho risparmiati un po' troppo allora Io adesso posso selezionare le foto che ho fatto Ma avendone solo tre Le mettiamo tutte e tre Una Due e tre Adesso questo tizio barbuto Che è il nostro capitano Valuta le nostre foto E ci dice quanto sono belle e quanto valgono Vediamo 7 di dimensione 10 di punto 9 di angolo Per un totale di 8.7 Ok si poteva anche fare meglio Alla fine si poteva anche fare meglio Tu puoi fare meglio cara Io sono bravissimo così Grazie Io faccio così sempre 10 Ma quando mai Allora questo secondo me è un 8 e mezzo Vediamo 8 Ok ci sta Come l'ultima L'ultima è bellissima L'ultima voglio un 9 e mezzo Dai questa la valuterà benissimo Guarda che bella inquadratura 9 e mezzo è perfetta Guarda 9 10 10 9.7 Ottimo 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 Infatti stava urlando di gioia Era felicissimo Davvero una bella foto Ne sono certo la prossima sarà perfetta È già così perfetta signor capitano Lo capisce che è già perfetta Un 9.7 Cosa vorrebbe di più Mi spiega Questi sono i soldi che guadagniamo Una foto l'abbiamo venduta E gli altri due invece le mettiamo appunto nel nostro museo Il museo è ancora a lavoro Altri due minuti Regalo a sorpresa Fai un altro tour per ricevere un regalo a sorpresa Uh ottimo Voglio farlo io adesso Voglio fare le foto Aspetta Aspetta Perché un'altra cosa carina è che vengono visitatori da tutto il mondo Quindi quando lo leggi in italiano È perché davvero questa persona viene dall'Italia Ok Capito? E ci sono persone a scrivere in inglese, in tedesco, in cinese Qualunque lingua ti viene in mente E fa troppo ridere Oh bellissima Per di più buttano cose a terra Che se tu raccogli Come vedi Ci danno qualche soldino Vedi? Ottimo, ottimo, ottimo Quindi anche questa è una cosa molto carina Vedi queste sono poi le pose Che dobbiamo cercare di fare Cercare di beccare Esatto Piano piano le stiamo sbloccando Quindi vedi E invece poi vedi Mettiamo quelle che abbiamo già fatte È molto carina come cosa Perché ci dice un po' le foto su cui ci dobbiamo focalizzare Ma allo stesso tempo Iniziamo a mettere quelle che abbiamo già fatto Sì vabbè la scimietta sopra l'elefante La voglio troppo vedere Bellissima, bellissima Allora quindi Guarda Vedi Oh yao gozaimasu Che lingua è? Oh yao gozaimasu Oh yao gozaimasu No non è giapponese Non hanno quella o Scusi ci puoi dire che lingua è? No Però ci ha lasciato un regalino qua Guarda Ottimo Ho sbagliato Aspetta Aspetta Scusami Questo Ok Sei monetine Ok Andiamo a fare l'ultima missione Che ho detto che poi ci dà un bellissimo regalo E sono troppo curioso Ho detto che volevi provare tu Sì Quindi aspetta che stacco il caricatore Di non far mostrare le mie doti Da fotografo di animali Che io ovviamente Facci vedere Mi stai accusando ingiustamente di cose non vere Quindi adesso ci fai vedere quanto sei brava Il tuo telefono fa schifo Scatterà tutto e farò delle foto terribili E lo so che fa schifo Infatti sono tristissimo Eh lo so Fai bene adesso Lo fai bene Io vorrei un bel telefono Qua ci metti una vita anche a caricare Allora Oh salve No se addormenta Se addormenta che ci serve Uh questo ci serviva L'angolo l'è sbagliato No no era così Un po' più a sinistra Ma stai zitto che tu neanche ce la faresti Guarda Prenderne mezzo Ma se ti si è caricato in faccia Più facile di così è una foto Stai zitto che sono scherzo Guarda quanto scatta No C'è la tigre Aspetta Ti prego non la far perdere Vai No sta scattando tantissimo Persa Dai perché fa schifo sto telefono Lascia in faccia il mio telefono Vai il branco Vai il branco Il branco secondo te va bene? Sì dai Dai facciamolo C'è un'altra tigre C'è una tigre Sì 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 Ti prego non scattare E fammi fare questa foto Della tigre Con calma Con calma Aspetta Se secondo me così è troppo distante Ci darebbe un dimensione troppo basso E adesso Vai Adesso E guarda che bellina Guarda che stavo anche sorridendo Però un po' più centrale era meglio Eh vabbè è difficile Controlla la sinistra Ecco Anche questa ci serve Aspetta Aspetta L'inquadratura perfetta Aspetta Questa è perfetta Rifalla Aspetta Più centrale Così Ora Ottima 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 Fai abbandona E beh sì Non ci serve Abbiamo finito la corsa Uh Bello Sono riuscita a fare un sacco di foto Fighissime Cosa hai preso Vai vediamo Allora Devi selezionarne tre Allora questa dove dorme la prendiamo Perché ci serviva Ok Questa invece era la foto di compagni Ci serve lo stesso Però prendi l'ultima Metti l'ultima Sì Perché è uscita meglio È la tigre Perché è il nuovo animale Quindi andiamo E il branco no Ok No erano solo tre Mettiamo la tigre che è il nuovo animale Che non ce l'abbiamo Vedi Ok Sono no Ce l'ha fatta 10 9 10 9.7 Ottimo Ok va benissimo Bravissima Ferenichi Bravissima Vediamo se l'ultima è un 10 Questa qua Vedi compagni Ce l'ho fatta 10 10 10 Sono stata bravissima Che bello Sono stato Ma stai zitta L'ho scelta io l'inquadratura Fai uno scarsone Questa è brutta Eh lo so Però ci serviva infatti 7 Aia Ci serviva a sbloccare però il nuovo animale Quindi possiamo sbloccare Dopo un 10 Quel 7 fa proprio male Però vedi Adesso sblocchi anche le sue pose Quindi lo puoi riprendere Bellissima Lo so È carinissima sta cosa Abbiamo una cosa fantastica Praticamente il regalo di cui parlavano Capitan Jeff Aspettate 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 Sta scattando No No non scappare Girati Che sei bellissimo Girati No dai Non te ne andare lì Gioca antipatico Te ne è andato Guardalo Questa ci serve Questa ci serve Eh ma Voglio avvicinarmi no Ok Sperando che non si alzi Dicevo che il regalo che ce l'ho fatto È una pallina Da poter tirare gli animali Per farli giocare E di conseguenza avere delle pose speciali stra belle Allora questa falla perché ci serviva Non mi piace neanche così a me Te lo dico Girati un po' Eh ma non gliela puoi fare Ok A me piace No ma non si vede che è in posa Se tu gli fai il primo piano Capito Mi stai insultando Aspetta tiriamo la pallina Alla scimmietta Ok Allora aspetta Però cosa c'è nel cespuglio Non lo so Tu tira Tieni la pallina Oh Ok però girati Non ho fatto nulla Girati Ma si Guarda davvero Ma perché non ti giri Allora tieni scimmia Seguono e basta No che brutto È un po' difficile da usare È un otto Ma perché io faccio sempre schifo però Non lo so Non sei riuscito a prendere niente Solo una foto Ti è andata bene Che noia Ma neanche forse Allora cosa hai preso Guardi un sacco di roba capitano Allora no Devi mettere quella covacciato di sicuro Sì ma io metto anche questa E beh danno solo Vasco vai Tanto Peggio di così non poteva andare Non mi insultare Vedi ha covacciato Questa è tutto 10 Esatto Perché hai fatto la foto Te l'ho detto che questa non era uscita male A me non piaceva l'angolo Eh no però ci sta Vediamo come valuta questa Anche questa covacciato Però 7.3 Perché l'hai preso troppo zoomato Eh lo so Mi piaceva guardarla negli occhi Allora dimensioni Eh lo so Lo so No ha ragione Ha ragione Ha un 5 Però è stato cattivissimo No ha ragione Era bruttina Non mi è piaciuta neanche a me Sono molto deluso di me stesso E ho sprecato un'opportunità importante Perché comunque i rullini si accumulano Dopo un po' di tempo Quindi sprecarli in questo modo Non è la cosa reale E qua ci vuole ferrenichi Qua ci vuole ferrenichi Infatti Io attiro gli animali con la mia energia E mi fanno delle foto splendide Sblocchiamo le nuove cornici Perfetto A dopo Ok Vedi abbiamo una della scimietta Una dell'elefante Poi Sblocchiamo queste E andiamo a 3 con lui Che è buonissimo E poi solo una sua Che è pure bruttina Secondo me Eh vabbè Chiamami Timmy Si chiama Timmy quindi Non lo sapevamo Va bene Ti chiamiamo Timmy Quindi ne abbiamo Una da scimia Una da elefante Tre da bambi E zero da tigre Abbiamo le fraterie Oh che bello Ti lascio l'onore Ci saranno un sacco di animali nuovissimi Ti lascio l'onore Che bello Vado 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 Ok il tuo museo Può trasformare un'isola desolata In un paradiso luminoso Eh lo sappiamo Gli animali Portano la luce nel mondo Lo sapevamo già Soprattutto io Non devi reggere una cosa seria Che poi sai che Piano piano sblocchi Tipo poter andare nel polo nord A fotografare i pinguini Oh mio dio Ciao Sei bellissima Aspetta Sì sei fantastica Così ti prendo Guarda che bella Bellissima Mi è piaciuta molto Ti è piaciuta come posa Sì Prova di avergli una pallina Aspetta alla prossima dai Ok va bene Va bene Ma te ti abbiamo già Però il branco ci serve Facendo il balletto Tutti insieme Tenete la pallina Ah tra tre tour Ok va bene Il branco ci serve Scusami Aspetta No vabbè E' la foto della vita questa E' la foto della vita Devo ammettere che in questo gioco sei più brava di me Ah lo so perché ovviamente la regina degli animali non può fallire in un gioco del genere Io devo ammettere Adesso chi c'è? E' lontani ma puoi provare No boh Ma secondo me è finito per quello Dicevo di provarlo Ah no Aspetta Oh mio dio sono bellissime Aspetta 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 Vai Un po' più centrale devi farle E' perché si muove nel frattempo Vedi che non sta fermo Ma devi essere brava Ok finito Vediamo i punteggi Che bello No ne ho fatto alcune fantastiche Però c'è da ammetterlo Che ne ho fatto alcune davvero troppo 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 belle Chiude Hai preso Allora vai quali scegli? Perché ogni quattro Eh sì Allora sicuramente questa Sicuramente questa Perché è bellissima Questa Che l'ha fatto della vita E tra le due? No il branco Perché secondo me ci può servire Andiamo Andiamo Se ce lo sblocca è ottimo Perché ci dà anche un buon punteggio Almeno un dieci lo vorrei vedere Questo ci potrebbe No Votato malissimo per la dimensione Che strano Forse è troppo zoomata Eh forse sì Però vedi era una posa Perché walk on by Quindi era una posa Peccato Peccato per la dimensione Quindi un pochettino E vabbè ero emozionata Perché erano i nuovi animali Ma dai Ma come puoi votarla male? No cioè Io mi licenzio Tu sei un capitano fallito Sei talmente vecchio Che non capisci L'arte moderna Delle foto degli animali E non puoi competere con me Perché questa è una cosa vergognosa Cioè l'ho preso Nel momento in cui Si è lanciato Dalla testa della giraffa Ed era ancora in volo E ti sembra Che mi dai solo sei Cioè Sei un fallito È finita? No Ok Guarda se non mi dai questa Come branco Foto di gruppo Ti ammazzo 10 9 10 Ok Ma dai L'altra era una foto Cioè Consolino era una foto Da 15 Lo sappiamo tutti Cioè ma chi è che Riesce a prenderlo Mentre si lancia? Perché forse voleva La foto Mentre stava ancora Fallito vecchio Hai finito Devi stare zitta Calmati È andata così Accettalo Sei stata comunque brava Adesso disinstallo il gioco Dammi il telefono Immediatamente Lo disinstallo E lascia in pace il capitano E non disinstalli nulla Perché se dobbiamo fare la serie Non puoi disinstallarlo Invece sì Allora si è bloccato nel caricamento Allora volevo vedere Che tipo di posa pretendeva Scusami Perché non ho proprio ben capito Adesso ti faccio vedere Allora Tacchete Tacchete Colleziona Perfetto Adesso andiamo a vedere Allora Prima di tutto nella scimmia Dice che Ne abbiamo sbloccato un'altra Di cornice Cioè guarda che epica Con la giraffa Appunto abbiamo Praterie sua Perfetto E poi anche Guerri al galoppo È quella che non hai fatto Sì 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 E invece l'altra Non te l'ha contata Proprio come posa Direi che secondo me Ci possiamo anche fermare Per il primo episodio Perché non vogliamo andare Troppo troppo avanti Eh no certo certo E sono curiosa di vedere Se i consolini piacerà Quindi praticamente Ricapitolando È uscito Eday È uscito questo Scegliete voi Quale dei due Continuiamo come serie Mentre l'altro rimarrà Lì fermo Come episodio singolo Carino carino E deciderete voi appunto Con le views Con i likes Con i commenti Eccetera eccetera Poi magari in futuro Se vi è piaciuto molto Anche l'altro Non sappiamo quanto vi piaceranno Valutiamo l'idea Di continuare anche l'altro Però All'inizio perlomeno Continuiamo soltanto Uno dei due Speriamo che vi sia piaciuto Perché è davvero particolare Ed interessante Molto strano Rispetto ad altri tanti giochi Che abbiamo fatto È molto particolare Molto strano Mischia ingestionale Alle abilità da fotografo E poi ci sono gli animali Solo una pecca noto Ok Secondo me sarebbe stato carino Entrare proprio dentro il museo A vedere le tue foto appese Invece lo vedi solo dall'esterno Ok Se aggiungessero questa cosa Secondo me sarebbe Molto più carino E darebbe più il senso di gestionale Hai ragione Però comunque Non sottovalutare il fatto Che fra un po' Possiamo costruire molto di più Ah no certo certo E quindi la parte gestionale Diciamo che va anche molto Sotto quel punto di vista Che per ora capito Non vedi molto Però appunto Se all'inizio Il museo è troppo basso di livello Ma poi puoi potenziare Un sacco di roba E quindi espandere tantissimo l'isola E fare una figata Quindi ci fermiamo così Speriamo che vi sia piaciuta Questa cosa del contest È stato un esperimento Un po' pazzo Davvero strana E vabbè ci sta Per una volta abbiamo voluto Far scegliere a voi Piuttosto che scegliere da soli E ci sta come cosa da provare Esattamente Bene che se non ci vedete Così se ci lasciateci un bel like E se è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.